4 milioni di euro messi a disposizione dal Fondo Europeo e destinati all'edilizia scolastica per opere di messa in sicurezza. Soldi che non sono mai arrivati nelle casse della provincia di Pescara e Chieti. A fare la denuncia Leandro Bracco, consigliere regionale, uscito da qualche mese dal Movimento 5 Stelle e ora appartenente al gruppo misto. Questi fondi però l'Europa li avrebbe dati esclusivamente se le province di appartenenza di questi quattro istituti avessero dato a loro volta una parte di cofinanziamento. Questa cosa all'inizio per quanto riguarda la provincia di Pescara era stata messa nella sua bianco, dopodiché l'amministrazione di Guerrino Testa decise nel settembre 2012 di togliere questi soldi dai rispettivi bilanci. Facendo così appunto questi 4 milioni di euro sono andati a farsi vedere tornando al mettente e verranno di conseguenza utilizzati da altri paesi dei 28 dell'Unione Europea. Secondo Bracco oggi è difficile mettere in atto manovre di recupero di quei fondi poiché sarebbero scaduti i termini di legge. Il mando della regione che deriva dall'Europa, poi l'Europa l'ha trasmesso alla regione, dice che si può chiedere la proroga solamente per una volta, per tre mesi, una volta sola. E invece dalle fonti che a me e ai miei collaboratori risultano, la provincia di Pescara e quella di Chieti, forse anche quella di Chieti, sarebbero in procinto di chiedere una seconda proroga. Ovviamente questo va contro il bando, quindi questi soldi torneranno al mettente con buona pace delle migliaia di ragazzi che vanno in queste scuole, con tutte le conseguenze negative sulla sicurezza purtroppo.